Ma in ogni caso la pista non deve essere occupata. Allora, vento da Ovest, attraverso pista, decollo a distrezione, appena pronto può decollare. Allora, vento da Ovest, attraverso pista, decollo a distrazione, appena pronto può decollare. Allora, vento da Ovest, attraverso pista. Allora, vento da Ovest, attraverso pista, attraverso pista, detraverso pista, attraverso pista. Grazie. 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 Grazie.